Ripresentiamo dopo 5 anni di pubblicazioni continue l'osservatore immobiliare di Salerno e provincia rilevato strada per strada. Il lavoro giornaliero è costante di tutti gli associati FIAIP che anche nel periodo di agosto, perché andare in stampa e essere presentato a novembre significa tutti gli effetti che ad agosto si è lavorato, anche ad agosto abbiamo indicato quali sono i valori di riferimento strada per strada degli immobili su Salerno e provincia. È un momento importante perché dopo anni di caduta verticale dei prezzi oggi rileviamo una caduta relativissima dello 0,6%, quindi a tutti gli effetti noi indichiamo che questo è un momento di stabilizzazione del mercato immobiliare e quindi era fondamentale ed era importantissimo essere presenti con la nostra pubblicazione.